Ciao a tutti ragazzi, bentornati! Siccome mi accusate sempre di non avere spirito natalizio, oggi vi voglio stupire con effetti speciali e parlarvi del luogo nel mondo che è l'unico forse che riesce veramente a tirare fuori il piccolo elfo dentro di me e a trasformarmi in una grandissima amante del Natale, delle luci, dei regali, degli addobbi e cioè la città di New York. Fino a quando non siete andati a New York durante il periodo natalizio non potete dire di aver visto che cos'è il vero Natale. Non parlo dello spirito natalizio, religioso, i valori eccetera, io qui parlo di pura esagerazione, di qualcosa che vi farà andare completamente fuori di testa. Partiamo allora insieme per un itinerario specialissimo che tocca tutte le migliori location di New York dove assaporare appieno il Natale. Considerate che durante i vostri giorni in città fare tutto questo tour magico tra le luci natalizie praticamente vi occuperà tutto il tempo e quasi quasi tutte le altre attrazioni passano in secondo piano, però ne vale la pena. Quindi se siamo tutti pronti partiamo per visitare New York natalizia con i miei posti del cuore. Cercherò di seguire un filo logico e non schizofrenico in questo itinerario anche se probabilmente ci saranno alcuni momenti in cui mi perderò e passerò da un quartiere all'altro o da una strada all'altra ma voi seguitemi e vedrete che riusciremo a vedere tutto insieme. Partiamo dal cuore di New York o meglio di Manhattan e cioè Central Park. Se siamo fortunati potremo trovarlo completamente innevato e sarà ancora più bello passeggiare in questo luogo e magari vedere gli scogliattoli che corrono da un albero all'altro, gli alberi illuminati e ovviamente la famosissima pista da pattinaggio che abbiamo visto in milioni di film da non perdere. Nella parte sud di Central Park si trova una piazza che si chiama Grand Army Plaza al centro della quale c'è una fontana, la Pulitzer Fountain, che ogni anno viene decorata al suo intorno con delle grandissime palle di Natale e dei giganteschi pacchi regalo coloratissimi da non perdere una foto qui assolutamente. Inoltre proprio qui troviamo anche il famosissimo Plaza Hotel, quello di Mamma ho riperso l'aereo, si può entrare gratuitamente e nell'atrio ci sono degli addobbi favolosi oltre che un albero gigantesco, quindi assolutamente qui. Sostiamoci un pochino verso l'Upper West Side e più precisamente il Lincoln Center dove si trova la New York Opera House e anche il New York Ballet e anche questo abbiamo visto in milioni di film. questo probabilmente è l'unico posto di New York in cui non hanno fatto un albero gigantesco ma hanno cambiato un po' il mood natalizio e cioè hanno installato lungo le arcate degli edifici delle luci a led che vengono illuminate a partire dal tardo pomeriggio e poi per tutta la serata così come delle lanterne galleggianti nella fontana centrale di questo complesso elegantissimo, quindi qui diciamo che sono rimasti un pochino più sobri rispetto a tutto il resto. Andiamoli vicino a Columbus Circle al Time Warner Center, che cos'è? Praticamente un gigantesco centro commerciale che quest'anno ha voluto veramente strafare appendendo al soffitto decine di stelle alte tipo due metri l'una che vengono illuminate a partire dalle 4 del pomeriggio per una sequenza, per uno spettacolo appunto di luci colorate, considerate che le combinazioni di luci sono più di 16 milioni quindi uno non può neanche rimanere lì a guardarsele tutte, però una cosa veramente stratosferica e questa installazione si chiama Holiday Under the Stars. Columbus Circle camminiamo lungo la Sixth Avenue che inizia proprio lì fino ad arrivare a Radio City Music Hall. Qui oltre alle luci che normalmente si vedono fuori da questo teatro di concerti troviamo un albero gigantesco ovviamente e quelle famosissime palle di Natale rosse che sono piazzate sulla fontana antistante all'ingresso del Radio City Music Hall. Qui una foto è d'obbligo anche perché in pratica vi trovate i Radio City Music Hall davanti con tutte le sue luci, queste gigantesche palle rosse lucide, poi ci sono anche installate delle gigantesche proprio luci di Natale come quelle dell'albero di Natale. Voi vi sedete lì sul bordo della fontana, vi guardate tutto questo spettacolo e avete tutti i grattacieli che svettano sopra di voi e tutti gli alberi che sono l'intorno illuminati su ogni singolo ramo. Pazzesco! Camminando camminando da Radio City Music Hall si arriva direttamente al punto centrale del Natale a New York, il più famoso e cioè Rockefeller Center con l'albero rigorosamente più famoso del mondo, più fotografato, più conosciuto, più amato anche oserei dire, che si affaccia appunto su questa piazzetta dove viene installata la pista di pattinaggio. Attenzione perché è una pista di pattinaggio piuttosto piccolina, dalle foto sembra un po' più grande, poi quando si arriva lì si resta magari non dico delusi ma uno dice me ne immaginavo più grande. Comunque considerate che visto anche la grandezza dei palazzi che ci sono intorno e dei grattacieli vi sembra piccola per forza. Proprio dietro l'albero del Rockefeller Center c'è uno dei posti miei preferiti di New York e cioè il negozio di giocattoli più incredibile del mondo ossia Fao Schwarz che si è trasferito qui da qualche anno. Si può entrare senza problemi gratuitamente, è un negozio del resto. Troverete la qualunque a livello di giocattoli delle cose incredibili, delle cose tradizionali, tutte le invenzioni più moderne e anche un'area abbastanza fornita solo dedicata alle Barbie quindi direi top. La cosa molto molto figa è che quando arrivate alla zona in cui si trova il big piano, quello che abbiamo visto nel film big, oltre a poter suonare il piano quindi saltare sui tasti avete davanti una vetrata che si affaccia proprio sull'albero del Rockefeller Center, sulla piazza e che vi fa vedere anche tutto quel viale dove ci sono gli angeli che suonano la tromba tutti quanti illuminati quindi veramente un colpo d'occhio stratosferico con tutte queste luci sgargianti. Dopo aver speso un bel po' di dollari in giocattoli, peluche, addobbi nuovi, chi più ne ha più ne metta da Fao Schwarz, meglio uscire, percorriamo il viale con questi angeli elegantissimi e ci troviamo davanti a questo che vedete alle mie spalle, cioè il grande magazzino Saks Fifth Avenue. Questo è un posto molto conosciuto che offre uno spettacolo incredibile ma di cui poi pochi secondo me effettivamente parlano e questa è una cosa devo dire molto molto sbagliata perché qui potete vivere un'esperienza incredibile tipicamente new yorkese che vi lascerà veramente di stucco e ammaliati. Infatti Saks Fifth Avenue è famoso per due cose durante il periodo natalizio, le sue vetrine stratosferiche elegantissime, sempre diverse ogni anno, veramente incredibili, cioè delle vere e proprie opere d'arte e questo sfavillante spettacolo che vedete alle mie spalle che coniuga luci ovviamente e anche musica. Quindi durante tutto il giorno ci si può piazzare lì davanti e assistere a questo spettacolo che dura circa tre minuti anche per svariate volte perché poi le canzoni sono sempre diverse e godere di questo momento magico veramente vi sembrerà di essere nel paese dei balocchi è una cosa io non sono molto romantica molto per queste cose per questi per questi show per queste questa forse può essere vista anche come un po' un'americanata però vi assicuro che è una cosa da pelle d'oca molto molto emozionante anche per un Grinch come me. Previene quindi arrivare, piazzarsi sul marciapiede dalla parte opposta della strada e aspettare e vedere più di una rotazione dello spettacolo perché in questo modo intanto la folla un po' alla volta comunque va via o comunque c'è sempre chi lascia libero il posto e riuscite un po' alla volta ad arrivare davanti in prima fila in modo da proprio godervelo frontale e essere completamente immersi e catapultati in questa atmosfera unica. Sulla Fifth Avenue secondo me scatta un po' un problemino perché si è attirati sia dagli addobbi e dai decorazioni a livello strada quindi delle vetrine e sia dalle decorazioni dei palazzi quindi si sta tutto il tempo praticamente con il viso rivolto all'insù e non si sa bene dove guardare. Secondo me gli addobbi quelli comunque più interessanti e anche imperdibili sono Cartier che impacchetta tutto l'edificio con un fiocco rosso bellissimo, Louis Vuitton che allestisce un albero di Natale gigantesco proprio nell'angolo dell'edificio e ovviamente le illuminazioni di Messis. Inoltre poi da non perdere l'albero di Natale e la grossissima ghirlanda che viene appesa fuori dalla porta della Trump Tower. Anche qui si poteva entrare adesso non so come siano messi però comunque è di libero accesso e sono degli addobbi veramente bellissimi. Per oggi ho finito con questo primo episodio del Natale a New York. Domani inizieremo dalla New York Public Library e poi ci sposteremo sempre più a sud verso la punta di Manhattan con tutti gli altri addobbi meravigliosi natalisti. Un bacione a tutti, buona serata e a domani!